salve amici e amiche allora due giorni fa ho aperto con questa macchina a bologna ok ovviamente ho letto i vostri commenti è giusto essere avere disappunto ecco per queste manifestazioni non autorizzate e contenuti proposti da quello che diceva l'altoparlante del tipo che la nato spende mille mila volte più di quanto spende la russia che il nostro vero nemico è la nato ok perché ho aperto così oggi perché c'è chi fa peggio di noi chi è che fa peggio di noi secondo voi gli stati uniti negli stati uniti infatti circolano cose di questo tipo un furgone con la scritta gay power proprio così gay power poi dentro il furgone c'è gente che indossa strane magliette strani simboli e scritte che il baffetto aveva ragione ok ora è chiaro che c'è tanta confusione tanta tanta confusione fra l'altro mi collego anche a qualche commento che ho letto nei miei video precedenti in cui mi è stato contestato di fare politica uno mi ha scritto tanto lo so dove vuoi andare a parare allora metto le mani avanti io non mi occupo di politica non me ne intendo proprio di politica penso che il buonsenso possa stare da tutte le parti a prescindere da quello che poi sono delle idee di welfare più a destra o a sinistra della nostra democrazia ma qui si parla di politica estera di conflitti dove una persona dovrebbe avere un po le idee chiare però è chiaro che le idee chiare è difficile averle è una cosa che sinceramente non mi piace di quello che sta succedendo oggi nel nostro paese è che purtroppo tante volte a sinistra pur di inneggiare a degli slogan si perde di vista l'obiettività e il buonsenso da questo punto di vista mi collego a questa brevissima pezzo di intervista a Paolo Mieli che un po sintetizza quello che voglio dire ve lo faccio sentire sempre la stessa storia lei ha ragione all'intellettuale di sinistra cioè se tu sei con i buoni viene perdonato tutto e quindi se tu sei di sinistra anche dici ma ieri mattina eri nazista hai il privilegio della moralità oltre che dell'intelligenza e infatti è l'unica cosa che non mi piace della sinistra che scegliere la sinistra significa anche scegliere un mondo dell'impunità e quindi uno fra se uno si sente di sinistra si trova insieme un sacco di persone impuni a cui non si chiede nulla questa è una cosa che non mi piace è giusto io penso che sia assolutamente condivisibile ripeto se andiamo a vedere la storia del nostro paese il dopoguerra è prima che finisse la guerra dal 43 in poi l'italia è stata fatta da persone che definiamo partigiani che erano sia di destra che di sinistra bisogna ricordarlo eh cioè le proprie idee politiche su quello che su come deve comportarsi la nostra democrazia non c'entrano assolutamente niente con il buon senso e studiare la storia contemporanea e la politica estera chiudiamo quindi qui questo preambolo fra l'altro il furgone che vi ho appena mostrato questo qui che ha la scritta gay power e poi dentro ci sono persone abbastanza schierate non so perché ma mi ha fatto venire in mente una scena del film blues brothers non so se avete presente quando i due tizi che precipitano con l'automobile poi uno dice all'altro ti ho sempre amato esattamente allora per restare sul tema assurdità e trash la televisione nazionale russa fa sempre del suo peggio e giusto questi due pezzi non potevano mostrarveli perché insomma in questo pezzo di trasmissione il presentatore dice fondamentalmente il contenuto è questo avremmo dovuto dimostrare all'europa che siamo una potenza nucleare molto tempo fa qualcosa come 800 test nucleari nel corso della guerra fredda non sono bastati che dite ma a parte questo lui sta parlando della guerra in ucraina un po' dice avremmo dovuto mostrare che siamo capaci di usare le armi nucleari e avremmo sarebbe una grande idea questo ripeto eh faccio discorso per rispondere un po' allo slogan la russia non è il mio nemico ok giusto per intenderci poi cosa dicono in russia di noi quindi secondo questo genio di l'equivalente di rai 1 dice per esempio sarebbe un'idea eccellente prendere di mira una base di addestramento in europa con un'arma tattica nucleare ha una bella base di addestramento così capiscono di cosa siamo capaci questo è un po' il succo nel discorso durante l'intervento poi viene chiamato questo ex militare o militare che fa un bellissimo discorso del tipo riprendiamoci tutto quello che era nostro che comprendeva i confini dell'ex Unione Sovietica quindi fa un discorso molto spiccio dice ci riprendiamo l'Ucraina e poi ci prendiamo anche la Finlandia e la Slovenia tutto nostro e fra l'altro fa anche dei discorsi contro il Giappone visto che evidentemente non si ricorda che i russi hanno perso la guerra contro il Giappone ma comunque andiamo avanti le situazioni sono queste la Russia che è capace di mettere in carcere un padre di famiglia solo perché la figlia ha disegnato a scuola ha fatto un disegno che nel frattempo è cresciuto e diventata un adolescente ha fatto un disegno contro la guerra quindi il padre è stato messo in galera oggi è stato liberato per fortuna dopo mesi e mesi non si sa quanto tempo quindi tra l'altro non gli hanno neanche restituito i vestiti è uscito ancora con la divisa da carcerato la Russia non è mia nemica dico no io penso invece che la Russia sia nemica dell'Europa in modo aperto ostile e lo sta dimostrando con i fatti da quasi tre anni da un punto di vista proprio concreto testimoniato dal semplice fatto che i suoi vertici militari sono indagati per crimini di guerra allora fra l'altro sempre per restare sul tema 136 droni sono stati lanciati questa notte contro l'Ucraina 51 di questi sono stati intercettati parliamo della situazione al fronte allora come dicevo l'altro giorno la situazione nella regione di Kursk è critica e al momento stiamo assistendo a quello che è il vero e proprio momento della guerra d'attrito come viene definita dove assistiamo a un vero e proprio locuramento da entrambe le parti questa è probabilmente la fase più critica del conflitto prima dell'esaurimento delle energie delle forze materiali da parte russa in questi mesi anzi scusate in questi ultimi giorni stanno dando il tutto per tutto letteralmente l'all in in Ucraina lo stanno facendo nella regione di Kursk dove cercano disperatamente di riprendersi i propri territori in questa avanzata stanno spingendo fra l'altro anche qui quello che sta succedendo lo vediamo per esempio nella mappa di Mayakosk posso parlarvene ma ovviamente non posso mostrarvi niente vi passo il link in descrizione quello che potrebbe succedere non posso sbilanciarmi perché la situazione è in divenire e che gli ucraini cadano in una sacca qui quindi questi report per esempio questo è un crimine di guerra cioè l'iconcina di un omino disteso a terra perché è esattamente quello che è successo in questo campo proprio qui è documentato ci sono i video e le foto un gruppo di soldati ucraini è stato catturato sono stati costretti a togliersi uniformi e vestiti dopodiché è successo il crimine di guerra comunque in questa avanzata vediamo icone di truppe in contatto mezzi che saltano sopra le mine altri mezzi russi distrutti quindi vedremo è un fatto che gli ucraini non hanno costruito fortificazioni nella regione di Kursk quindi la loro tattica è quella della guerriglia di una guerra di movimento di conseguenza tutto può cambiare molto rapidamente andiamo avanti nella regione di Lipsi a nord di Kharkiv non ci sono grossi cambiamenti quindi se non attacchi da parte ucraina con questa nuova apertura avanzata almeno da parte russa scusate da parte ucraina c'è una pressione di spinta quindi vedremo se ci sono aggiornamenti nei giorni scorsi gli ucraini hanno hanno condotto dei attacchi con artiglieria in quest'area presidiata dai russi altre novità arrivano invece dalla regione dalla parte vicino a Kupiask la cittadina di Kupiask perché dico questo adesso ci arriviamo perché come vi avevo accennato in questa parte del fronte a est i russi stanno spingendo da un po' di giorni da circa un paio di mesi ottenendo dei risultati quindi in questa avanzata che vediamo anche se ovviamente al costo di enormi perdite i report che vediamo in queste iconcine queste qui sono degli ultimi 4 giorni il 12 vedete il 15 questo ieri con un attacco di artiglieria proprio nei pressi della cittadina di Kupiask fra l'altro vi faccio vedere questo video è stato girato da dei soldati l'evacuazione della città è iniziata e al momento nella città risiedono 3.000 abitanti di 26.000 che ce n'erano prima del conflitto quindi l'evacuazione può significare che la situazione qui potrebbe degenerare andiamo avanti altre novità si segnalano nella parte di Chasiviar dove i russi hanno portato degli attacchi su due punti oltre il fiume qui e qui dove vediamo appunto delle truppe in contatto e operazioni droniche ucraine ma gli scontri più intensi stanno avvenendo a Toresk come vedete il numero delle icone è impressionante questi sono tutti attacchi condotti da ucraini in blu negli ultimi tre giorni gli ultimi aggiornati sono proprio questa mattina con attacchi di artiglieria lungo tutte le retrovie russe è una situazione molto dinamica con i soldati ucraini e russi a distanza di poche decine di metri a volte arrivano video di combattimenti con i fucili nell'ordine della distanza di 10-15 metri allora per quanto riguarda invece l'avanzata russa in direzione di pokrovsk come vi dicevo giorni fa attualmente ha raggiunto una sorta di stallo nella direttiva principale qui ma nel frattempo i russi spingono un poco più a sud in tutta quest'area non ci sono grossi cambiamenti se non appunto il numero delle segnalazioni e dei droni di tutti questi video sono gli ultimi 3-4 giorni che ci dimostrano appunto truppe in contatto soldati russi che piazzano bandiere a caso su edifici neanche stessero conquistando liberando Berlino dalla Germania dalla Germania nazista e questo è quanto per quanto riguarda il fronte ora notizia complementare a questo truppe nord coreane sono state viste combattere in Ucraina secondo questo articolo una cifra di 3.000 soldati della Corea del Nord sono stati schierati nella zona di Mariupol allora questo è da parte di politico poi confermato anche dal The Kiev Independent del 16 proprio oggi parla di qualcosa come 10.000 soldati inviati a combattere per la Russia ok quindi ricordiamoci sempre ve lo faccio rivedere questo slogan ok quindi questa è la situazione se confermato insomma si parla di truppe nord coreane in Ucraina in supporto alle operazioni a sud est e questo probabilmente perché la Russia ha dovuto alleggerire i loro reparti per portarli nella zona di Kursk quindi ha avuto bisogno di schierare truppe aggiuntive a sud sud est qui ok allora andiamo avanti notizia così vi faccio vedere cambiamo un attimo fronte però questo mi serve anche per agganciarmi alle capacità degli F16 ucraini questo video viene da Taiwan quello che succede che si vede è il sensore di un F16 di Taiwan che ha agganciato via radar un aereo cinese e poi tramite l'aggancio radar ha portato il bersaglio nel sensore sniper questo sensore è un sensore ottico e infrarosso che si aggancia sotto l'F16 questo stesso sensore ce l'hanno anche gli F16 ucraini in particolare quelli svedesi che stanno arrivando e questo sensore permette di fare identificazione dei bersagli è un sensore importante perché integra le capacità del radar dell'F16 permettendogli per esempio una designazione selettiva dei bersagli immaginiamo per esempio che gli F16 ucraini sono chiamati a intercettare dei droni e fra questi ci sono ci sono missili da cruciera è chiaro che hanno velocità diverse però con questa risoluzione e questa capacità di identificare a vista l'oggetto l'F16 può fare una selezione dei bersagli quello che l'F16 di Taiwan ha fatto è quello di appunto avere agganciato un J11 cinese che è la loro versione del Su-30 sono dei Su-30 dati alla Cina e la Cina ne ha sviluppato una versione facendo degli aggiornamenti fondamentalmente ma è sempre quello l'aeroplano quindi questo ci dimostra proprio la capacità del sensore sniper Taiwan al momento è in una situazione difficile se consideriamo che la Cina non riconosce la l'isola l'indipendenza dell'isola vorrebbe riannettersela questi discorsi come sempre no fanno riflettere e poi soprattutto per il fatto che Taiwan dalla Cina dista poco più di 100 km in sostanza se gli aerei decollassero per combattersi dopo il decollo sarebbero già a tiro dei rispettivi missili il che lascia un po' intendere la pericolosità della situazione sia per Taiwan ma anche per il Giappone che è un po' chiamato essere il guardiano dell'aria quindi la situazione nel Pacifico non è proprio per niente bella attualmente la Corea del Nord non è così pericolosa da un punto di vista militare se parliamo di tecnologia almeno ma sicuramente la Cina lo è molto di più le forze aeree di Taiwan sono di circa 139 F-16 block 70 e 72 che sono le versioni più moderne degli F-16 paragonabili a un aereo come l'Eurofighter per certi aspetti come capacità tecnica come radar definizione del radar e missili se parliamo almeno dei 120C quindi è sicuramente l'aereo più moderno che ha a disposizione Taiwan che non ha niente da invidiare a un aereo di quarta generazione e mezzo poi hanno una loro versione una specie di aereo strano brutto che è una via di mezzo fra un F-16 e un F-18 piccolino di cui ne hanno centinaio 26 addestratori e poi una quarantina di Mirage 2000 lo stesso aereo che la Francia vuole dare agli ucraini questo aereo qui bellissimo aereo hanno la versione non mi ricordo 2005 EI EDI che hanno comunque discrete capacità per come ruolo di intercettori e controllo dello spazio aereo e questo è quanto cari amici con questo oggi vi saluto se non l'avete ancora fatto mi raccomando iscrivetevi al canale è importantissimo lasciate un mi piace qui sotto trovate tutti i pulsanti per sostenermi e come sempre un abbraccio alla prossima